Giusto un anno fa, proprio al Sisan, il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, aveva annunciato che erano in arrivo 73 milioni di euro per potenziare il porto di Salerno. Ieri sera, nel corso della Cermes, Caldoro ha firmato, assieme al presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata, il protocollo d'intesa che rende utilizzabile il finanziamento, dando così il via alle gare per poter eseguire i lavori nello scalo. I porti di Salerno e Napoli vengono considerati strategici dall'Unione Europea per lo sviluppo dei trasporti in tutta l'area del Mediterraneo. Abbiamo avuto l'approvazione del progetto dall'Europa, l'ammissibilità, abbiamo avuto la copertura finanziaria, abbiamo affidato chiaramente ora all'autorità portuale la gestione di questo grande intervento, che rientra in maniera integrata per la prima volta nella portualità regionale, che ricordiamo è uno dei quattro cluster nazionali, quindi Napoli e Salerno. Sono una straordinaria potenzialità, sono i primi datori di lavoro della nostra regione, hanno potenzialità di crescita in termini di mercato, di persone, di merci, di passeggeri. Il governatore Caldoro si è poi soffermato sulla vicenda del CSTP. Il tema non è regionale, come sapete, la competenza non è nostra. Dal punto di vista finanziario? Dal punto di vista politico, non finanziario no, perché dipendiamo dal governo, sono i trasferimenti nazionali, la regione non ha trasferimenti propri sui trasporti, prende dal governo e dà agli enti, i cittadini vengono penalizzati, per noi trasporto e sanità non si è TPL, trasporto pubblico locale e sanità dei cittadini non possono essere toccati, le regioni hanno fatto una battaglia, allo Stato però permangono i tagli fortissimi, violenti del governo nazionale, sul TPL 40% di tagli, il governo si è impegnato, il ministro Passera qualche giorno fa ha detto che richiamava le regioni e gli enti per rifare l'accordo, finché non si rifà l'accordo i tagli sono purtroppo ancora presenti. È gravissima la situazione della sanità in Campania, Caldoro ha dichiarato tra l'altro che negli ospedali la carenza di personale mette a serio rischio la salute dei pazienti. Noi abbiamo una carenza di organico che ormai è divenuta intollerabile, insostenibile sui requisiti che ci chiedono, sui livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, siamo sotto organico e riconosciuto anche dagli organi di vigilanza, abbiamo chiesto lo sblocco parziale del turnover per permettere le nuove assunzioni di medici, di personale, faremo un po' di mobilità come ci chiede il governo, orizzontale per riequilibrare il sistema ed è un tema che è all'ordine del giorno, anche in quel caso ci vuole una norma nazionale, non possiamo fare noi niente come regione se non aver dimostrato, toccarti alla mano, asle per asle, azienda per azienda, abbiamo dato tutti i numeri, abbiamo dimostrato che siamo, ma è il riconoscimento, noi siamo sotto organico sotto il 10% sulla media nazionale, sugli organici, quindi abbiamo in tanti settori più personale, non nella sanità.